Ci stiamo avvicinando, sto per andare ad Acerra, è un incontro per i roghi, contro i roghi tossici e guardate che spettacolo, che spettacolo, che spettacolo, che schifo, che schifo, guardate un po', sto andando proprio in questo momento all'incontro con gli amici degli altri comitati per discutere su come affrontare il problema dei roghi. Mi trovo sulla strada, sto per andare ad Acerra, sto per andare ad Acerra, mi incontro contro i roghi e vedete cosa sta accadendo, vedete cosa sta, hanno incendiato sotto il ponte. E' una plena garta sporca e nessuna sana borta e ognuna spettacolta. Acerra 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.